Tanta paura e traffico in tilt per alcune ore stamani lungo la A24 a causa di una frana nei pressi dell'area di sosta di Roviano nel tratto dell'autostrada compreso tra i caselli di Carsoli Oricola e Vicovaro Mandela. Un grande masso insieme ad altri detriti più piccoli e precipitato dal ripido pendio ha sfondato la recinzione e superato l'alta massicciata arrestando la sua corsa nella corsia di sorpasso della carreggiata opposta in direzione Roma. Un veicolo della Guardia di Finanza in transito ha urtato la pietra fortunatamente senza conseguenze per gli agenti a bordo. Il tratto dell'autostrada interessato, inizialmente chiuso in entrambe le direzioni, resta ora interdetto in direzione Roma mentre è tornato percorribile con una deviazione nell'area di sosta di Roviano per chi viaggia verso l'Aquila Teramo e verso l'autostrada A25. Insomma una tragedia sfiorata e una vicenda che riaccende i riflettori sul blocco da anni del megaprogetto di messa in sicurezza, il PEF, con controversia tra la società di gestione Strada dei Parchi e Ministero Edanas. Scrive Strada dei Parchi in una nota. In quella tratta l'autostrada attraversa un'area caratterizzata da un fronte geologico particolarmente instabile che fu sottostimato da progettisti e costruttori oltre 50 anni fa. Sulla vicenda immediata la presa di posizione del presidente della regione Marco Marsiglio che ha telefonato al Ministero per sollecitare un'immediata messa in sicurezza. Non possiamo attendere, ha dichiarato Marsiglio, i tempi burocratici dei sopralluoghi e dei successivi interventi perché l'Abruzzo rimarrebbe senza il collegamento con Roma troppo a lungo. Questa frana, continua Marsiglio, dimostra ancora una volta la situazione di pericolosità già da anni messa in evidenza. Sulla vicenda è intervenuto anche il senatore Luciano D'Alfonso. L'autostrada abruzzese, ha scritto in una nota l'esponente del PD, ha esaurito la vita tecnica poiché il numero degli anni di esercizio è lì a dimostrare la necessità non rinviabile di fare i lavori strutturali. La direzione generale competente del Ministero delle Infrastrutture si impossessi del dossier e stabilisca un calendario di cose da fare.